Buongiorno a tutti, in questo video vedrete come si prepara in modo molto rapido e veloce il cuscus con il mio olio e il mio fieno, una domanda che mi avete fatto in tanti e quindi ho deciso di fare questo video per l'ennesima volta, però i video che poi pubblico dopo tanto tempo naturalmente vengono sopraffatti dagli altri, quindi non è facile poi trovarli ecco, quindi ogni tanto ripeto quello che ho già fatto, in questo video praticamente la clip poi dopo di quello che sto per dire dura solo 3 minuti, quindi ecco in 3 minuti riuscirete a vedere come si prepara il cuscus con il mio olio e il mio fieno, ripeto in modo molto rapido e veloce, naturalmente serve un'attesa di 20 minuti per il cuscus e vi consiglio di utilizzare acqua calda, anche molto calda, per fare questa preparazione in quanto diciamo la ricetta riesce meglio, le erbe si ammorbidiscono meglio e l'olio riesce a incorporarsi meglio, in questa ricetta non utilizzo per asciugare il cuscus nessun passoncino, proprio per dare modo agli uccelli di mangiare esclusivamente l'olio e il fieno, questo del cuscus naturalmente come anche più volte spiegato, è il metodo migliore per somministrare l'olio e il fieno in quanto il cuscus, rispetto ad esempio all'uniti da un passoncino qualsiasi, è un alimento si può dire così neutro, quindi ecco andremo a somministrare realmente l'olio e il fieno con tutti i benefici che questo comporta, soprattutto se li utilizzate insieme vi assicuro che il benessere intestinale dei vostri uccelli è assicurato, si può somministrare a tutti i tipi di uccelli, non abbiate timore, quindi a chi lo ha io consiglio di utilizzarlo almeno una volta a settimana, anche in questo modo, gli uccelli lo gradiscono molto, nella clip finale vedete anche la nostra frida, un paffagalli amazzone che lo mangia volentieri e le amazzone sono paffagalli molto particolari che non mangiano tutto, ecco quindi anche da questo si capisce che dove mettete il mio olio e il mio fieno diventa assolutamente un alimento anche molto più gradito, colgo l'occasione anche per annunciarvi che proprio oggi è stato attivato su youtube il nostro negozio online, quindi sia sotto i video potete scorrere una stringa dove ci sono i prodotti e da questo negozio che è su youtube potete acquistare anche finalmente anche l'olio e il fieno, naturalmente quando cliccate sui prodotti questo vi riporterà al nostro sito Snoopyfy dal quale poi potete acquistare tranquillamente con carta di credito, con Paypal o con tanti altri metodi che sono oramai disponibili su tutti i siti, questo sito è attivo da pochi giorni, non ci sono solo l'olio e il fieno ma ci sono tutti i prodotti tipici che abbiamo deciso di distribuire in quanto Dodo è diventato anche un'attività commerciale di vendita itinerante ambulante quindi abbiamo anche altri prodotti che distribuiamo e quindi ecco questa era solo un'apparenza, buona visione, adesso godetevi questo video perché è una ricetta veramente semplice e spiegata nel dettaglio, buona visione da Dodo e grazie a tutti per averci seguito, per seguirci, anzi vi comunico la cosa più importante anche che sabato e domenica non questa l'altra saremo presenti a Palermo con il nostro stand, buona visione grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.